La bellezza che desideri e cerchi Il desiderio di bellezza è un sogno che da sempre accompagna la vita di ogni donna, la quale vuol vedere fuori ciò che sente dentro. Scegliere l'equipe del dottor Adilardi presso l'ambulatorio di chirurgia plastica a Trento significa affidarsi ad uno staff di alta professionalità, con strutture funzionali nel rispetto della privacy e di tutti i parametri di sicurezza. Chirurgia estetica, liposuzione, aumento e riduzione del seno, medicina estetica. Chiama con serenità il numero 0442 60 26 88. Tutti gli interventi sono eseguiti con le tecniche più avanzate, in estrema sicurezza, accompagnati da una profusa professionalità di tutto il personale in un ambiente accogliente. Molte donne considerano la chirurgia estetica non come un vero e proprio intervento chirurgico, ma come qualcosa simile ad un trattamento estetico. L'intervento di chirurgia estetica è un vero atto medico e deve essere affrontato e vissuto con serietà e in assoluta sicurezza. Ritrova la fiducia e la sicurezza che hai sempre sognato e riacquista ciò che gli anni ti hanno tolto. E perché no, fatti un regalo che duri per sempre. Chiama subito! La bellezza ti aspetta! www.chirurgiaestetica.it 0442 60 26 88